si va completando l'allinamento Lion Bypass che ha effettuato l'ultima falsa volante Nikrex Bigi, Marlen Mel, Morgan Deimar, Afnap e Gino Papp che perde l'ala in prima fila la chiusura delle ali c'è lo scatto di Morgan Deimar frusta addosso per andare davanti recupera all'interno Nikrex Bigi con l'arrivo della curva i due seguiti da Grafnap Morgan insiste, pressa Nikrex frazione tesissima 14,9 il paletto passano in legati con Morgan Deimar, Nikrex Bigi e secondo poi Grafnap quindi molto bene Nigeria Jet dalla seconda fila si mette subito in moto all'esterno Melo di Dechiari, frazione in 15,4 ma tiene andatura e rallenta soltanto adesso all'arrivo della seconda piegata Nikrex sposta volontario in anticipo su Nigeria Jet e si porta deciso all'attacco di Morgan Deimar il paletto in 16,7 legati a stoppato ma Nikrex va al comando ai 700 di gara e tiene adesso di fuori Nigeria Jet seguita da Lion Bypass frazione in 15,8 per passare davanti al tribune è rimasto in ultima posizione Melo di Dechiari perché l'hanno anticipata praticamente tutti è andato di fuori anche Nippon Griff, Nigeria Jet va con grande decisione l'attacco di Nikrex Bigi lo sorvola al chilometro, frazione in 15,5, cala Morgan Deimar, viene Lion Bypass si muove anche Gino Papp, Nigeria Jet scappa a traguardo lontano, va in grave difficoltà Nikrex Bigi 14,7 la frazione, secondo passa Lion Bypass poi viene anche Gino Papp e quindi cerca di recuperare cavallo numero 3 Marlene Melo, squalificato addirittura arrivo con Nigeria Jet che se ne sta andando 15,7 la frazione, stanco Lion Bypass finisce bene Gino Papp nel tratto ultimo l'attacco di Gino Papp a Nigeria Jet Gino Papp sul traguardo con Enrico Montagna, stampa Nigeria Jet poi terzo Lion Bypass e quarta Melo di Dechiari 1,17,3 il tempo del vincitore al chilometro Gino Papp con Enrico Montagna in sediolo e Nicola Castaldi da Traine 22,14,24, 25,17, Boltzetto